carissimi amici e amiche benvenuti o bentornati ad una nuova puntata del catechismo romano del concilio di trento che ci vede arrivati a ridosso ormai della pasqua all'articolo sesto del credo che spero di riuscire a trattare integralmente questa sera che appunto quello dedicato all'ascensione salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente nell'ultimo incontro abbiamo concluso la sezione appunto dedicata l'ampia sezione dedicata al quinto articolo discese agli inferi il terzo giorno di suscita da morte che ci ha accompagnato per diversi momenti oggi appunto apriamo l'articolo sull'ascensione vorrei ribadire che questi cicli di catechesi questi incontri soprattutto per chi vuole fare un pochino di sana formazione oggi quanto mai necessaria sono importanti sono molto importanti per quanto mi riguarda perché la nostra fede è fondata appunto sulla roccia della rivelazione che è la stessa ieri oggi e sempre ripeto come tutti sanno io ho fatto cicli di catechesi sul catechismo nuovo della chiesa cattolica sia sul sulla forma estesa che sul compendio 2 sulla catechismo di san pio decimo ed ora anche sul catechismo romano scelta voluta perché pur nella diversità degli stili è chiaro che l'essenza della rivelazione rimane e deve rimanere sempre la stessa sia la struttura dei catechismi sia anche il contenuto certo quello che opinabile aspetta ai fedeli di farsi una idea propria rispettosa e ovviamente rispettabile circa quale sia la modalità migliore comunicativa cioè c'è chi preferisce le formule di san pio decimo quindi brevi in botta e risposta domande e risposta c'è chi preferisce le formulazioni estese del nuovo catechismo molto ampollose e chi potrebbe preferire le spiegazioni molto teologicamente attente perché chiaramente risentono dell'influsso del concilio di trento al catechismo romano massima libertà e quindi massima possibilità di muoversi e di orizzontarsi come meglio si crede faccio una piccola premessa dedicata ovviamente a chi ascolta la diretta non chi poi vedrà le registrazioni di questa catechesi ascoltare il podcast sarà possibile intervenire in diretta al termine della catechesi adesso è inutile fare domande da nessuna delle piattaforme perché adesso non posso rispondere perché adesso si deve articolare un discorso al termine sarà anche aperta la chat del canale del mio canale di telegram dove sarà possibile intervenire anche con domande fatte a voce e risponderò alle domande di ogni di ogni genere quindi per favore non fare domande durante la diretta allora salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente comincio la lettura significato dell'articolo il profeta davide contemplando ripieno dello spirito di dio la beata e gloriosa ascensione del signore esorta tutti a celebrare con grande retizia e gaudio un tale trionfo con queste parole popoli tutti battete le mani giubilate a dio con canto di trionfo è asceso il dio in mezzo al tripulio intenderà da ciò il parroco il dovere di spiegare con il massimo impegno questo mistero e di curare con diligenza che i fedeli non solo lo apprendano con la fede dell'intelletto ma si sforzino con l'aiuto di dio di esprimerlo nelle opere della loro vita quanto alla spiegazione di questo sesto articolo in cui principalmente si tratta di questo divino mistero è bene cominciare dalla prima parte ed è nucleare nel significato quindi attenzione alla puntualizzazione della cura del parroco di sforzarsi non solo di far capire il senso di quest'articolo con l'intelletto ma di imparare ad esprimerlo nelle opere della vita cioè come esprimo io con la mia vita la mia fede nel fatto che il signore è asceso al cielo vedremo poi quello che si dice qui avanti ma si può dire in prima battuta se il mio signore è asceso al cielo quindi se con la mia stessa natura si trova in cielo vorrà dire come scrive san paolo lo troveremo sicuramente questa citazione più avanti se siete risorti con cristo pensate alle cose di lassù cercate le cose di lassù dove si trova cristo seduto alla destra del padre quindi vivrò sulla terra ma con lo sguardo rivolto in cielo con il cuore già in cielo e con lo sguardo rivolto al cielo non è qui questa vita terrena siamo di passaggio cioè il pensiero della vita eterna deve essere un pensiero fisso quando la sera andiamo a letto dovremmo tutti quanti come dire fare i salti di gioia perché perché un giorno in meno al grande appuntamento al termine della vita che non è soltanto il termine come dire il termine cronologico ma è il fine della vita il telos alla greca quindi non semplicemente la fine ma il fine perché siamo stati creati stiamo affanno qua tutti sappiamo che non staremo in eterno sul pianeta terra e allora e dopo che succede bene comincio le lettura delle spiegazioni dettagliate del catismo cristo è asceso in cielo per sua virtù come dio e come uomo ascese al cielo numero 82 i fedeli devono fermamente credere che cristo compiuto il mistero della nostra redenzione ascese al cielo in corpo e anima come uomo mentre in quanto dio non ne fu mai assente poiché riempie ogni luogo della sua divinità il parroco insegnerà come gli ascese per virtù propria non elevato per forza altrui come elia che fu tratto in cielo da un carro di fuoco o il profeta abacuc come si legge in daniele 14 35 o il diacono filippo che portati nell'aria per virtù divina trasvolarono notevoli distanze ovviamente spero che tutti ci credano a queste cose perché sono scritte nella nella sacra bibbia non sono favolette o leggende spero che tra le persone che non mi piace dire né che mi seguono né che mi ascoltano ma che ascoltano queste cose che sono figli della chiesa semplicemente perché noi siamo semplicemente figli di dio e figli della chiesa non ci sia nessuno che sia un razionalista o un modernista cioè che le cose che sembrano esorbitare l'ordine della ragione della comprensione naturale le nega noi non siamo creduloni ma non siamo neanche razionalisti se la saga scrittura dice che elia fu rapito su un carro di fuoco elia fu rapito su un carro di fuoco se dice che abba cook e filippo diacono furono trasportati miracolosamente per via aeree altrove lo crediamo senza nessuna difficoltà lontano da noi razionalisti e specialmente per quanto riguarda le suggesti bibliche che oggi ce ne sono rappresentati come quanto volete purtroppo quindi Gesù Cristo invece lo fece per virtù propria non solo come dio quindi per l'onnipotente virtù della sua divinità ma anche come uomo poiché sebbene tale cosa non potesse compiersi con le forze naturali pure la virtù di cui era dotata l'anima beata di Cristo potesse muovere il corpo come le piacque e questo che già era glorificato potesse facilmente obbedire all'impero dell'anima che lo muoveva attenzione guardate che io una spiegazione di questo genere non l'ho letta fino adesso in nessun catechismo questa è la ragione per cui crediamo che Cristo come dio e come uomo è asceso al cielo per sua virtù allora magari quando uno pensa all'ascensione dice è per forza che è asceso per virtù proprio lui è dio invece la Madonna è stata assunta per esempio quindi perché non poteva salire per virtù propria cioè qui si spiega che Gesù come uomo è asceso al cielo non perché come dire trasportato dalla sua natura divina ma per la virtù di cui era dotata l'anima di Cristo che poteva comandare su un corpo glorificato che quindi poteva obbedire facilmente all'impero dell'anima che lo muoveva qui entrano in gioco anche le dotazioni dei corpi glorificati che ce l'avremo anche noi un corpo glorificato è libero da limitazioni gravitazioni o cose di questo genere ce l'avremo anche noi ce l'avremo speriamo se raggiungiamo la salvezza e risorgiamo per la gloria e non per la condanna che significa sedere alla destra del padre paragrafo 83 siede alla destra del padre queste parole si trovano nella seconda parte dell'articolo e sarà opportuno far notare che abbiamo qui una metafora frequente nella sacra scrittura per cui indulgendo la struttura del nostro intelletto attribuiamo a Dio affetti e membro umana mentre essendo puro spirito non si può concepire nulla di corporeo poi ci torno su questa spiegazione adesso arrivo al termine dell'articolo ora poiché tra gli uomini stimiamo che si debba tributare maggior onore a chi sta alla destra noi applichiamo la stessa idea alle cose celesti e per spiegare la gloria che Cristo come uomo si è guadagnata sopra tutti gli uomini diciamo che siede alla destra del padre ma qui sedere non significa il luogo o la posizione del corpo ma il fermo e stabile possesso di quella suprema e regale potestà e gloria che ha ricevuto dal padre dice l'apostolo risuscitandolo da morte e collocandolo alla sua destra nei cieli al di sopra di ogni principato potestà virtù dominazione sopra qualunque nome che si sia pronunciato non solo in questo secolo ma anche nel futuro tutto pose sotto i piedi di lui appare da queste parole che questa gloria è così propria e peculiare di Cristo che non può convenire a nessun'altra natura creata come il medesimo apostolo attesta in altro luogo a cuore degli angeli disse mai siedi alla mia destra quindi comprendiamo no ecco Dio è puro spirito il padre sappiamo che il figlio si è realmente incarnato quindi il figlio ha questa peculiarità attenzione che senza cessare di essere Dio ovviamente ha cominciato ad essere anche uomo questo è un grandissimo mistero delle persone della Santissima Trinità una da un certo momento della storia dobbiamo dirlo per forza anche se non riusciamo a comprendere pienamente come il fatto che Dio si incarni in un certo momento della storia come dire in qualche modo poi vada a intercettarsi nel suo eterno presente che vive appunto in quanto abitante di quella dimensione tutta sua che è l'eternità increata però qui si va veramente in poi c'è lo spirito santo che è puro spirito per cui non ha senso nei confronti di un puro spirito il psichialcatechismo dire sta seduto alla destra perché non c'è la destra o la sinistra la destra o la sinistra le identifichiamo noi però questo è una cosa che accade sovente attenzione quindi indulgendo la struttura del nostro intelletto si utilizza una metafora per esprimere un concetto e questo è un procedimento perfettamente corretto perché Dio si adatta evidentemente e vuole che noi facciamo questo perché noi abbiamo un intelletto che funziona in questo modo noi non siamo capaci di come dire entrare e penetrare dentro la realtà del puro spirito dobbiamo in qualche modo argomentare quindi raziocinare servendoci di categorie sensibili empiriche ecco quindi si è dalla destra del padre significa che è come dire totalmente glorificato e nella sua natura umana prendendo stabilmente quella gloria quella potestà regale che ha ricevuto dal padre ora paragrafo seguente tutti i misteri della vita di Cristo si riferiscono all'ascensione il parroco spiegherà più a lungo il senso dell'articolo narrando la storia dell'ascensione che l'evangelista San Luca ha commirabile ordine descritto negli atti degli apostoli capitolo 1 dal versetto 2 al 12 e qui occorrerà soprattutto osservare che tutti gli altri misteri si riferiscono all'ascensione e in essa trovano la perfezione e il compimento infatti come l'incarnazione del Signore è l'inizio di tutti i misteri della nostra religione così l'ascensione chiude la sua peregrinazione qua giù di più gli altri articoli del simbolo che si riferiscono a Cristo nostro Signore mostrano la sua immezza bontà e abbassamento nulla potendosi pensare di più deprimente e umiliante di questo che il figlio di Dio abbia assunto la natura e la debolezza umana e abbia voluto patire e morire per noi confessando invece nell'articolo precedente che egli è risorto da morte e in questo che è asceso al cielo e siede alla destra del Padre non possiamo affermare nulla di più grandioso e ammirabile per descrivere la sua gloria eccelsa e la sua divina maestà comprendiamo no? quindi come dire l'evento degli eventi ciò che ha cambiato per sempre il corso della storia il corso della vita umana il corso della nostra vita è stata l'incarnazione non c'è niente di più grande dell'incarnazione niente però con l'incarnazione ha avuto inizio l'umiliazione del figlio di Dio pur essendo di natura divina scrive San Paolo nel famoso inno stupendo del capitolo secondo della lettera ai figli pesi non considerò un tesoro geloso la sua coaglianza di Dio ma spogliò se stesso assumendo la condizione di serbo e divenendo simile agli uomini sapete che la chiesa nel suo peregrinare sapete che la chiesa vive nell'anno liturgico nel corso della l'anno liturgico che si ripete ciclicamente sempre uguale e su cosa ruota intorno a cosa ruota l'anno liturgico l'avvento il Natale quindi la rievocazione non è semplicemente una rievocazione la celebrazione attualizzata nella liturgia del mistero dell'incarnazione e della nascita del figlio di Dio sulla terra e poi quello che stiamo vivendo adesso la passione alla morte e la sua risurrezione tempo di quaresima triduo pasquale tempo di pasqua come finisce il tempo di pasqua ascensione pentecoste e poi ci sono le altre domeniche dell'anno ma giriamo sempre qui intorno perché la vita cambia cioè non ci stancheremo mai abbastanza non potremo mai esaurire la contemplazione di questi misteri non cesseremo mai cioè quando uno si mette davanti al presepio con un cuore minimo aperto come fanno a rimanere a bocca spalancata sapete che il presepio si è alimentato San Francesco ma si è alimentato San Francesco perché lui voleva come dire vedere con gli occhi ma ti rendi conto che cosa che cosa è andata a succedere cioè che l'Eterno l'immenso l'Infinito l'Onnipotente l'Onnisciente il perfettamente sapiente colui che mi ha creato colui a cui tutti obbediscono colui che dinanzi a cui gli angeli tremano e obbediscono a un minimo cenno non della sua voce ma della sua volontà cioè si abbassa così tanto cioè noi questa cosa io penso che non la capiremo mai io non lo so se quando andremo in paradiso ci capiremo un pochino cioè per questo non sono cose da capire queste sono cose da contemplare sono cose da rimanere a bocca aperta semplicemente davanti punto ma questo non è bastato non è bastato che ha preso la condizione di servo ubbidendo fino alla morte e alla morte di croce e qui lo stupore come dire diventa veramente qualche cosa di di inenarrabile ho detto durante i giorni scorsi che durante quest'ultimo scorcio di quaresima tempo di passione come veniva chiamato ma lo si può chiamare anche adesso in questo modo il mondo si dovrebbe fermare perché non si può porsi dinanzi a un evento di questo genere cioè le atroci sofferenze e la morte di un dio umiliato in quel modo per noi facendolo scorrere come se niente fosse e come sarà per la quasi totalità non solo degli uomini perché la stragrande maggioranza del genere umano non è battezzata e quindi vabbè cioè non va bene però è comprensibile ma per la quasi totalità dei battezzati io domenica scorsa durante l'omeria ho colto l'occasione essendo la domenica prima delle palme dico la domenica della messa parrocchiale dico ma dato che vogliamo un attimo parlare dei liti della settimana santa la gente non sa neanche cos'è la messa in cena domini o la celebrazione della passione del venerdì santo perché molta gente non ci ha partecipato mai molta gente non ha mai partecipato alla viglia pasquale cioè le cose più sante più importanti quelle che ci fanno anche accostare più da vicino ai misteri della passione morte e risurrezione di Gesù non sa neanche che cosa sono quindi questa parabola discendente perché c'è stata una discendenza con l'incarnazione e poi un ulteriore progressivo impressionante abbassamento fino alla morte la morte di croce e poi però si guida la gloria e il culmine della gloria è appunto l'ascensione perché l'ascensione come giustamente si legge nel nuovo catechismo della chiesa cattolica come dire chiude il mistero pasquale ne rappresenta l'ultimo atto perché al tempo stesso l'ultimo atto appunto la chiusura della vita terrena di nostro Signore Gesù Cristo è l'inizio della sua eterna glorificazione come uomo vittorioso sul peccato e sulla morte cause dell'ascensione paragrafo 85 bisognerà spiegare con cura per quale motivo nostro Signore è asceso al cielo anzitutto primo perché al suo corpo ornato nella risurrezione della gloria dell'immortalità conveniva non già il soggiorno di questa oscura abitazione terrena ma l'altissimo e splendido domicilio del cielo ovvio no? primo punto e ciò non solo per insediarsi nel soglio regale di gloria acquistato con il sangue ma anche per la nostra salvezza secondo per mostrare di fatto che il suo regno non è di questo mondo i regni del mondo sono terreni e labili si basano sulla copia delle ricchezze e la potenza del braccio invece il regno di Cristo non è terreno quale se l'aspettavano i giudei ma spirituale ed eterno Cristo stesso ha mostrato che sono spirituali i suoi beni e tesori collocando in cielo la sua sede dove sono da stimarsi più ricchi e più forniti di beni quelli che con più dirigenza cercano le cose di Dio San Giacomo infatti attesta che Dio ha eletto i poveri in questo mondo per farli ricchi di fede ed eredi nel regno promesso da Dio a coloro che lo amano terzo perché con lo spirito e con il desiderio lo seguissimo nella sua ascensione come infatti con la sua morte e risurrezione ci aveva lasciato un modello di morte e risurrezione spirituale e questo l'abbiamo visto negli articoli precedenti parentesi mia così con l'ascensione ci insegna a levarci con il pensiero nel cielo pur restando sulla terra confessando che noi siamo qua giù ospiti e pellegrini in cerca della patria ma già con cittadini dei santi e familiari di Dio espressione usata da San Paolo nella lettera degli Efesini 2.19 già che come dice ancora il medesimo apostolo la nostra patria è nei cieli allora io vorrei partire da questo terzo punto domanda la faccio a me la faccio a tutti quelli che stanno ascoltando queste cose in diretta in differita podcast video quello che vogliono tu potresti dire come dire con viso felice con atteggiamento di soddisfazione di fierezza contento il cielo è la patria mia la mia patria è il cielo oggi purtroppo tra le tante cose veramente balorde che caratterizzano i nostri brutti tempi si è andato un pochino perdendo il sano e santo concetto bello di patria io racconto sempre che l'ho riscoperto un po' quando tanti anni fa durante il mio percorso seminaristico fui mandato un'estate come dire in un paese molto povero dell'america latina vi ho un'esperienza diciamo così missionaria io confesso tranquillamente che ho sofferto che ho sofferto tantissimo la distanza e la lontananza dalla mia patria perché i disagi la lingua il clima il cibo le abitudini differenti per me sono stato un trauma ero giovane ero piccolo quando tornando con l'aereo ho visto la le sponde dell'Italia centrale perché sono tornato chiaramente atterrando a fiumicino mi ha preso un colpo al cuore sono tornato a casa non vedevo l'ora confesso ecco attraverso questa esperienza ho imparato un po' che cosa è la patria perché fino a quando rimaniamo sempre qui non ce ne rendiamo conto il cielo è così allora domanda abbiamo mai desiderato con tutto il cuore ma non come quelli che sono mezzi depressi capito ah io voglio morì signore fammi morì che non ce la faccio più questa non è una cosa bella il cielo si desidera come la meta la nostra patria ma in una bella maniera cioè signore non vedo l'ora di venire da te però certamente io fino a quando tu mi lasci sul pianeta terra ti servirò e ti amerò come posso meglio che posso e so bene che se dovessi morì chi lo sa quanto purgatorio mi aspetta va bene che diciamo anche così però io non vedo l'ora se dipendesse da me ma non tanto per dirlo queste sono cose che si dicono ovviamente nel silenzio della nostra preghiera del nostro rapporto personale con Gesù lui le vede queste cose non vanno sbandierate in pubblico come ostentazione o o o robe del genere insomma no però la nostra patria è nei cieli ci pensiamo cioè noi viviamo una vita terrena cioè nascosta con Cristo in Dio con Cristo in Dio nascosta con Cristo in Dio lavoriamo per il cielo cioè compiamo le opere per il cielo perdoniamo le offese per il cielo sopportiamo le persone moneste per il cielo compiamo all'agremento i nostri doveri per il cielo l'ascensione ci insegna a levarci con il pensiero nel cielo pur restando sulla terra levarlo spesso il pensiero nel cielo e quindi ci sono due aspetti cristologici quindi il cielo è il luogo degno del corpo glorificato e mortale del Cristo uno due lui ha detto il mio regno non è di questo mondo ecco nella dimostrazione la sua regalità si esplica pienamente dopo il suo ritorno al cielo è lì la sede il quartier generale del nostro re e terzo la dimensione esistenziale per noi con lo spirito e con il desiderio lo seguissimo nella sua ascensione bello eh bello così no poi benefici dell'ascensione e questo è l'ultimo paragrafo ce ne sono tanti è però lungo ma questo è tanto lungo quanto gli altri tre precedenti e forse anche qualcosa in più allora andiamo a vederci tutti sti benefici dell'ascensione e poi concludiamo questa puntata il profeta Davide molto tempo prima secondo l'apostolo aveva cantato l'efficacia alla grandezza dei beni ineffabili che la benignità di Dio è fuso su di noi asceso in alto questo è il salmo 67 nemenò schiava la schiavitù distribuitoni agli uomini il decimo giorno infatti dopo l'ascensione mandò lo spirito santo da cui feconda virtù riempì tutta la moltitudine presente di fedeli attuando la magnifica promessa è meglio per voi che io me ne vada perché se io non me ne vado non verrà a voi il consolatore ma quando sarà andato ve lo manderò uno dei celebri passi del Vangelo di San Giovanni durante il discorso di addio Giovanni 16,7 ascese al cielo secondo il detto dell'apostolo anche per comparire in dinanzi a Dio al nostro vantaggio e fungerò da nostro avvocato verso il Padre noi abbiamo un avvocato verso il Padre Gesù Cristo è giusto e gli abitimi di ispezione per i nostri peccati quindi allora benovici dell'ascensione primo solo dopo che Gesù ascende dal cielo arriva lo Spirito Santo no? dopo secondo Gesù nella sua veste umana è in cielo a fare cosa? a intercedere per noi come il nostro avvocato presso il trono di Dio a perurare la nostra causa a ottenerci tutte le grazie a mandarci tutte le grazie meglio perché lui non è che lo ottiene lui è Dio a sua volta poi sentite che bello qui figlioli miei di San Giovanni vi scrivo queste cose perché non pecchiate ma se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato verso il Padre Gesù Cristo giusto vittima di ispezione per i nostri peccati ne v'è certo fonte alcuna da cui i fedeli abbiano ad attingere maggiore letizia e giocondità di animo quanto dal saper costituito patrono della nostra causa e intercessore della nostra salvezza nostro Signore Gesù Cristo che gode presso l'Eterno Padre di somma grazie e autorità siamo felici quindi non c'è niente di cui i fedeli abbiano ad attingere maggiore letizia e giocondità di animo felicissimi sta perorando la mia salvezza lo stesso figlio di Dio fatto uomo per noi e beh questo insomma ci riempie insomma di gioia e di speranza no? ancora Cristo ci ha preparato nel cielo un posto come aveva promesso e a nome di noi tutti egli come capo è venuto in possesso della gloria celeste io vado a prepararvi un posto entrando nel cielo ci ha aperto le porte che il peccato di Adamo aveva chiuse e ci ha spianato la via per arrivare alla beatitudine celeste come aveva predetto ai discepoli nell'ultima cena appunto per mostrarlo apertamente con il fatto introdusse con sé nella casa della beatitudine eterna le anime dei buoni che aveva strappato dagli inferi ascendendo in alto abbiamo letto nel salmo 67 ha portato con sé prigionieri ha distribuito doni agli uomini le anime sottratte dagli inferi no? ricordiamo che prima della morte risurrezione ascensione al cielo di Gesù in paradiso non c'era entrato nessuno nessuno eh nemmeno San Giuseppe a questa mirabile copia di doni celesti prosegue il testo è seguita una salutare serie di vantaggi allora quali sono? primo anzitutto si è molto accresciuto il merito della nostra fede infatti la fede si riferisce alle cose invisibili e remote dalla ragione e dall'intelligenza dell'uomo la fede ha ad oggetto cose invisibili e lontane da noi remote ora se il Signore non si fosse allontanato da noi il merito della nostra fede sarebbe diminuito perché? perché Cristo stesso chiama beati quelli che non hanno veduto e non hanno creduto scusate non hanno non hanno veduto e hanno creduto perché tu mi hai veduto e creduto dice a Tommaso la sera di Pasqua dopo che gli aveva messo un famoso maio nel costato beati quelli che pur non avendo visto crederanno quindi noi abbiamo un merito di fede maggiore chiaro? perché crediamo tutto quello che dobbiamo credere senza poterlo in nessun modo vedere o toccare secondo l'ascensione di Cristo al cielo è adattissima a confermare nei nostri quali la speranza perché come professiamo che Cristo è sceso al cielo e ha collocato la nostra natura umana alla destra del Padre la nostra cioè la sua ma nella sua c'era nostra così vivamente speriamo di ascendere colà anche noi suoi membri per ricongiungersi con il nostro capo il Signore medesimo lo ha attestato con le parole questa è la preghiera sacerdotale di Gesù a Gelo di Giovanni 17-24 padre io voglio che quelli che tu mi hai dato siano essi pure con me dove sono io allora in Gesù in un certo senso siamo già tutti in cielo perché la nostra natura umana attraverso Gesù è già in cielo questo non significa che ci andiamo tutti quanti ma significa però che possiamo essere confermati nella speranza confermati nella speranza che è una cosa importantissima la seconda più tutta locale a che serve la speranza la speranza è esattamente quella virtù per mezzo della quale si 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 ci spuntano le ali mistiche ovviamente le ali regali e si tende si vuola verso il cielo no? mio Dio spero della tua bontà per le tue promesse per i meriti di Gesù Cristo nostro la vita eterna e le grazie necessarie per meditarla con le buone opere che io posso e devo fare questo è l'atto di speranza che dovremmo recitare si spera tutte le mattine e tutte le sere terzo notevolissimo beneficio ce ne sono cinque qui almeno da noi conseguito è l'aver rapito verso il cielo il nostro amore vedete prima la fede quindi la fede si robustisce poi la speranza e poi la carità terzo infiammandoci di ardore divino è stato detto con somma verità e questo non dimentichiamolo mai che il nostro cuore è laddove è il nostro tesoro certo se Cristo nostro Signore dimorasse qui in terra tutta la nostra mente sarebbe intenta nella visione nella familiarità di lui uomo lo ammireremmo solo come l'uomo che ci ha tanto beneficato e lo ameremmo di un amore terreno invece salendo al cielo egli ha reso spirituale il nostro amore e ha fatto sì che veneriamo e amiamo come Dio colui che ora pensiamo assente ciò si intende meglio sia con l'esempio degli apostoli che finché il Signore fu presente sembravano giudicare con criteri umani sia con la parola stessa del Signore che disse è meglio per voi che me ne vada infatti l'amore imperfetto con cui amavano Cristo presente gli apostoli doveva perfezionarsi con l'amore divino mediante la discesa dello Spirito Santo perciò aggiunse se io non vado non verrò a voi il consulatore è bellissimo questo qui no? l'infiammazione di ardore divino dove è il tuo tesoro la sarà il tuo cuore dove è il tuo tesoro te lo dico io lo ho già detto nei giorni scorsi rifletti a che cosa pensi dalla mattina alla sera a chi o a cosa pensi dalla mattina alla sera il tuo cuore è in cielo se tu durante il giorno ci pensi a Gesù ci pensi al paradiso ci pensi alla sua passione ci pensi alla sua parola ai suoi insegnamenti grazie a questi ottenuti attraverso l'ascensione grazie ovviamente che noi dobbiamo fare nostre utilizzare impiegare trafficare come talenti quarto dopo l'ascensione il signore ha ampliato la sua dimora terrena cioè la chiesa che è governata sotto la virtù e la guida dello spirito santo ad essa lasciò come pastore universale tra gli uomini e come supremo gerarca pietro principe degli apostoli altri costitui apostoli altri profeti evangelisti pastore e dottori sedendo ora alla destra del padre distribuisce sempre a questi e a quelli doni diversi perché a testa dell'apostolo a ciascuno di noi è data la grazia secondo la misura del dono di Cristo quindi nella chiesa dove Cristo regna sono presenti doni e grazie copiose anche nei momenti in cui quello che stiamo vivendo appare evidente la grandissima prova che sta vivendo e passando la chiesa corpo di Cristo ecco ma come dico sempre nonostante i tempi di grande prova non mancano di esserci fari luci ci sono sicuramente in giro dei santi adesso 100% nella chiesa gente che sarà un giorno canonizzata 100% e questo perché la virtù e la potenza di Cristo sceso dal cielo è grande sulla sua chiesa da ultimo quel che abbiamo insegnato sopra sul mistero della morte e risurrezione devono i fedeli pensarlo anche dell'ascensione perché sebbene noi dobbiamo la nostra salute e redenzione alla passione di Cristo e con i suoi meriti aperto e giusti la via del cielo tuttavia la sua ascensione non ci è proposta solo come un modello che ci insegna a guardare in alto e ad ascendere in cielo con lo spirito ma ci ha pure procacciato la forza divina per farlo quindi detta proprio in una parola Gesù asceso al cielo ci invita a sé ci invita a pensare a lui ci invita a guardare oltre guardate che l'ascensione è il mistero a mio avviso qui il catechismo romano le cita tutte le tre fede, speranza e carità ma è il mistero che mi sembra coinvolgere in maggior grado la virtù totale della speranza una virtù importantissima un certo Aragorn perché ha visto il Signore degli Anelli in un momento chiave del film a Legolas che si stava disperando a causa della eccessiva potenza dei nemici che sembravano invincibili disse c'è sempre speranza la speranza c'è sempre e noi adesso abbiamo motivo di avere una grande speranza perché Cristo Gesù seduto alla destra del Padre intercede per noi perché ci ha preceduto è andato a prepararci un posto dal cielo ci invita le grazie ci ha inviato lo Spirito Santo non mancherà mai nulla a noi di tutto quello che è necessario alla nostra salvezza quindi l'augurio mentre ci assinziamo a vivere l'ultima parte della quaresima però avendo già un occhio verso la Pasqua l'augurio che faccio al termine di questa puntata è che possiamo vivere tutti sulla terra avendo il cuore in cielo e lo sguardo fisso verso il cielo imparare ad agire sempre in maniera soprannaturale quindi sotto lo sguardo di Gesù noi non dobbiamo assolutamente importarci praticamente nulla di quello che gli uomini pensano di noi zero ma vivere sotto lo sguardo di Dio e secondo non solo sotto lo sguardo ma vivere tendendo verso Dio alimentando giorno dopo giorno in desiderio e quindi la brama la voglia di lasciare questa tenda e vivere presso il padre io vi assicuro la mia esperienza pastorale questa concezione teologale soprannaturale della vita terrena come appunto di una tensione verso l'alto non sempre appare così evidente bene amici direi che possiamo fermarci qui e che Dio vi benedica la Santa Vergine vi protegga siano lodati Gesù e Maria non sempre la mia esperienza la mia esperienza